Dopo anni di sanzioni occidentali e le proteste interne in Iran, l'Unione Europea dovrebbe aspettarsi cambiamenti moderati nel dialogo con Masoud Pezheshkian. Il candidato moderato e il riformista ha vinto le elezioni presidenziali lo scorso fine settimana contro l'integralista Saeed Jalili. Pezheshkian promette di tendere la mano all'Occidente, ma non cercherà cambiamenti radicali nella teocrazia scita governata dal leader supremo Layatollah Ali Kamenei. Il primo emplacement qu'il a choisi per fare un'annunce pubblica, c'était le tombeau di Ayatollah Khomeini, c'est-à-dire più conservatore che lui, il ne lo trovava per l'instant. Ma in même temps, il dit « je suis d'accord per certaines retouches riformatrices qui nous permet à la fois de travailler avec ce qui n'entend pas tellement dans le cadre d'institutions iraniennes, de la Repubblica Islamique iranienne, mais aussi peut-être c'est une voie de sortie de la crise actuelle». Per contenere il programma di arricchimento dell'uranio del regime, nel 2015 è stato firmato il piano d'azione congiunto globale tra l'Iran e le potenze occidentali, compresa l'Unione Europea. Ma l'accordo si è arenato e le riserve di uranio arricchito sono ora più di 20 volte superiori al limite concordato, secondo le Nazioni Unite. Lui ha imposto sanzioni contro l'Iran in risposta alle sue attività nel campo nucleare, ma anche in risposta alle sue violazioni dei diritti umani. Le sanzioni si sono intensificate dopo la morte in custodia della polizia della giovane Masa Amini e la repressione delle massicce proteste popolari. Ora il presidente eletto ha promesso di alleggerire l'applicazione della legge sull'obbligo del velo per le donne. La cosa più elementare a domandare è di avere un dialogo trasparente su tutte le violazioni dei diritti civici e collettivi che si constate oggi, che abbiamo enormemente rapporti scritti per le istituzioni europee. L'Europa farà poi pressione sull'Iran perché si astenga dall'intervenire nelle due guerre. Da un lato lui chiede che smetta di fornire droni alla Russia, che Mosca utilizza nella sua guerra contro l'Ucraina. Dall'altro l'Unione farà pressione sull'Iran affinché smetta di sostenere le milizie armate in Medio Oriente come Hezbollah in Libano e gli Houthi in Yemen.